Progetto Formazione Giovani, così si chiama l'iniziativa promossa dall'Istituto Superiore Marconi Piera Lisi di Iesi per creare nuove opportunità lavorative per i giovani del territorio. È stata un'esperienza molto bella, abbiamo visto un mestiere nuovo. Io mi ci ritrovo molto perché nell'abito lavorativo io sono uno studente lavoratore, quindi lavoro il pomeriggio e faccio installazione di stufa pellet, quindi un po' di impiantistica, è stato molto utile diciamo. Penso che mi sarà molto utile per il futuro, visto che dovrei continuare su questo settore. All'Istituto Superiore Marconi Piera Lisi di Iesi gli studenti incontrano il mondo del lavoro. L'iniziativa Progetto Formazione Giovani vede la partecipazione da un lato della scuola superiore e dall'altro un'azienda nel territorio. Coinvolge nel percorso formativo 10 classi totali, l'intento è sviluppare competenze specialistiche e generare opportunità lavorative ai giovani del territorio. È una collaborazione che riguarda soprattutto l'integrazione e l'approfondimento del curriculum dei nostri studenti dell'Istituto Professionale. Per fare in modo che possano costruire competenze che siano spendibili nel mondo del lavoro e che acquisiscano una professionalità che possa rispondere meglio a quelle che sono le esigenze delle posizioni lavorative che in qualche caso nelle aziende trovano difficoltà ad essere occupate. Dal primo anno al quinto anno, quindi è un progetto che inizia quest'anno come sperimentazione ma avrà uno sviluppo quinquennale. Si trova pochissima disponibilità di personale sul territorio e noi abbiamo pensato che questo mondo, il mondo dell'energia, ci sarà sempre continuo sviluppo anche perché in virtù di quello che sta succedendo nella guerra dell'Ucraina, quindi anche la questione della problematica energetica fa sì che il nostro settore sarà sempre in grande sviluppo. Questo ci ha stimolati nel creare questo progetto insieme alle scuole per poter trovare nuove leve per il futuro, per dare l'infa al settore proprio impiantistico e dell'energia. Presenti all'iniziativa anche alcuni lavoratori dell'azienda con cui è stata avviata la collaborazione che hanno spiegato agli studenti alcuni processi manutentivi. La manutenzione riguarda la pulizia del generatore della caldaia, abbiamo listrato tre tipi di caldaie, la condensazione, tiraggio forzato e tiraggio naturale. Abbiamo fatto anche l'analisi di combustione e poi varie domande, i ragazzi erano molto interessati, almeno la maggior parte si sognavano le cose, quindi a livello di formazione secondo me è venuta una bella cosa.